Il Consorzio di Bonifica del Bacchiglione, per voce del suo presidente Eugenio Zaggia, risponde alle critiche che gli sono state rivolte nei giorni scorsi, in merito alle inondazioni che hanno tragicamente interessato le nostre terre. Vorremmo raccontare quanto ha fatto il Consorzio da quando si è rotto l'argine del Roncaiette. Sono uscite sui giornali informazioni, anche sulla stampa, non funzionavano gli impianti idrovi. Stamattina vi faremo vedere come funzionavano i nostri impianti. Non c'è stata una pausa, io devo ringraziare dal direttore a tutti i dipendenti che sono accorsi in questo territorio e praticamente dall'1 novembre fino a oggi, 24 ore su 24, hanno garantito il funzionamento degli impianti. Abbiamo espulso milioni e milioni di metri cubi d'acqua entrati dalla falla. Devo ringraziare i dipendenti del Consorzio che sono saltati tutti gli orari, sono arrivati da tutto il territorio ovviamente, perché sono 47 gli impianti che noi abbiamo in funzione, a sostenere i dipendenti che erano presenti nel territorio del bacino Pratiarcati. È stato, come dire, un grande sforzo, ci è riuscito bene, credo. Purtroppo non siamo riusciti a evitare che l'acqua arrivasse dentro le case, nelle fabbriche, nei capannoni. Le piogge delle passate settimane, che si sono caratterizzate da subito per una violenza atipica, hanno messo in ginocchio persone d'economia. All'oggi risulta difficilissimo fare una stima dei danni subiti. Famiglie intere costrette ad abbandonare le proprie case, agricoltura piegata e misure precauzionali che sembrano traballare. Il Consorzio di Bonifica pone tuttavia l'accento sulla velocità della loro macchina organizzativa, sottolineando con forza come l'attività di pompe e di idrovore, oltre ad essere costantemente monitorata, abbia funzionato bene. L'idrovore a Baldon di Bovolenta avrebbe favorito una risoluzione anticipata dei danni causati dall'allagamento, di concerto con il lavoro degli operai del Consorzio e dei loro mezzi, che si sono spesi ininterrottamente giorno e notte.